Mi hao, woman shu, il volo Canteremo due brani, uno si intitola O sole mio, che diciamo che tutta la Cina conosca O sole mio, e l'altro si intitola Il mondo, è una delle canzoni più famose italiane Ma si è proprio questo diciamo che stiamo cercando di fare, è la prima volta qui, è quello di portare questa musica e riproporla in maniera diversa, in maniera più moderna Poi ascoltate le nostre canzoni e vi renderete conto, e anche di portarla ai giovani, questo è importante, giovani che portano ai giovani A questa esigena di condizione lo che stavo a parimo, è il vero di l'unico, l'unico viene bassi della creazione L'unico è un piz buton di più ben Un piz sempre fatto di un uO, il bim Ma che riguarda i giovani, il bimbo di un uO, e anche se più ani Comunque, quindi gli uO, e anche i Deni da un uO, marmoro di un uO, un blues, Poi una differenza di città di un uO, con uO, con iorti di un uO, con iorti di un uO. A un uO è un uO, è un uO, un uO che si è un uO.